Non so come ricambiare, io mi vorrei veramente desabillare, desnudare, pure la Francia. È un Roberto Benigni sorridente e francofono, quello premiato ieri nella prima edizione del Farnese d'Or, un riconoscimento istituito dalla Camera di Commercio francese in Italia e assegnato nella sede dell'Ambasciata Transalpina Palazzo Farnese a Roma ai protagonisti in ambito economico, sociale e culturale dell'amicizia italo-francese. Che premio è il premio Farnese? Nessuno sa che premio è perché è la prima edizione e questo è anche un grande onore che sia la prima volta di Farnese d'Oro, è vero? È la prima volta che prendo questo premio, giuro. Il Farnese d'Oro è consacrare la relazione tra Francia e Italia. Per noi ovviamente avere Roberto Benigni è veramente un grande orgoglio. Riceva lo stesso premio di Benigni. E vuoi mettere, quindi da Oscar, quindi da Oscar. Soldato! Ma tu sei l'uomo che fa per me! Asterix è stato uno dei momenti più belli, diciamo, della mia vacanza cinematografica perché facevo solo l'attore. Buonanotte a te. A domani qua. Roberto Benigni, che ha recitato in Asterix e ha voluto già Renaud nel suo La tigre e la neve, ci annuncia in futuro una collaborazione con un famoso produttore francese. Seidou, Messia Seidou, col quale abbiamo avuto tanti progetti insieme e qualcuno ha ansia anche per il futuro. Cos'è che ci unisce molto tra italiani e francesi? Adesso ci unisce anche la politica perché c'è un Parlamento all'italiano in Francia dopo le ultime legislative. Siamo avvicinati. Siamo avvicinati molto all'Italia. Manca solo una scissione, poi siamo proprio all'Italia precisa. Siamo avvicinati.